ciao a tutti sono qui presso gli studi di rocker tv a lezione con io sono marco d'andrea chitarrista dei planetard del mio progetto solista omonimo appunto marco d'andrea la pillola di oggi riguarda l'approccio fisico e mentale in preparazione di un live che sia live in un pub o che sia live al forum di assago la prima cosa da fare appoggio la chitaria e faccio degli esercizi di stretching che faccio apposta perché ovviamente noi rocchettai quando suoniamo sul palco fai headbanging o ti muovi eccetera poi il giorno dopo se non fai abbastanza stretching con l'età anche un po' inizi a sentire qualche piccolo dolorino perciò onde evitare dei risvegli traumatici la cosa ideale la cosa che dico sempre a tutti i miei allievi anche è di fare un po' di stretching faccio vedere giusto qualche esercizio che faccio sia sul corpo che poi sullo strumento che serve appunto per scaldarsi in previsione del live prima cosa da fare appoggiare la chitarra gli esercizi classici sono esercizi classici di stretching perciò chi fa palestra già lo sa però dobbiamo allungare tutta la muscolatura che parte dalla testa fino alla base della schiena perciò faccio vedere qualche esercizio veloce l'importante è cercate di tenere gli esercizi almeno un 30 secondi ognuno adesso per un discorso di tempi di riprese vado un po' veloce ecco importante sono questi esercizi poi se avete veramente pochissimo tempo un trucchetto che mi ha detto un carissimo amico fisioterapista è quello di fare in modo che si attivi la microcircolazione perciò prendo il singolo dito e lo faccio roteare velocemente in questo modo così facendo si attiva la microcircolazione e se provate a farlo anche voi vi venite subito conto una volta finito questo esercizio che sentirete le dita della mano destra molto più calde rispetto a quelle della mano sinistra gli altri esercizi ad esempio riguardano appunto il tratto cervicale perciò prendere e allungare bene la testa poi quello che consiglio a tutti i musicisti è di fare sempre stretching ma anche un po' yoga che aiuta proprio a centrarsi in previsione di suonare davanti a 5.000, 10.000 o 25.000 persone ovviamente perché questo è molto importante l'altra cosa da fare dopo aver fatto gli esercizi di stretching ed allungamento muscolare riguarda il scaldarsi direttamente con lo strumento in cui gli esercizi che consiglio di andare a fare sono legati alla lettrata alternata così si scalda anche la mano destra e agli esercizi invece quindi legati potete fare delle scale potete fare io trovo anche i band la tecnica per la quale prendo la corda e la alzo ad esempio se no i classici esercizi che si chiamano il gergo chitarristico ragno la classica sequenza ad esempio 1 2 3 4 il ritorno mi sposto di mezzo tono e faccio 4 3 2 1 ecco l'importante ragazzi ovviamente se avete tempo so che a volte appunto per problemi tecnici non c'è tanto tempo per scaldarsi bisogna andare suonare punto e stop però se avete la possibilità di farlo almeno in 5 minuti trovate i vostri esercizi che vi aiutano anche per un discorso di concentrazione ad esempio oltre a fare questi mi piace stare nel backstage con la luce spenta qualche minuto proprio a concentrarmi semplicemente prendendo consapevolezza di quello che sto andando a fare bene per la pillola di oggi è tutto sono qui presso gli studi di rocker tv io sono marco d'andrea e vi aspetto per la prossima pillola ciao ragazzi ciao ciao ciao